La Diocesi Lucera Troia comunica con gioia la missione tra i candidati agli ordini sacri del Diaconato e del Presbiterato di Francesco Saverio Giglio nella celebrazione eucaristica preseduta dal Vescovo Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Giuliano che si terrà sabato 2 ottobre alle ore 19 presso la parrocchia di San Francesco Antonio Fasani in zona Lucera 2. Grazie a tutti.